Davide, oggi è un giorno un po' speciale con l'arrivo alla casa? Sì, oggi è un giorno molto speciale, si arriva a Bergamo e niente, è una tappa di 200 km e speriamo di riuscire a beccare la fuoco giusta, dato che il percorso si adatta a chi vuole attaccare da lontano e vediamo un po' come andrà. Un tipo di tappa per tutti? Sì, è lo stesso finale più o meno del Lombardia dell'anno scorso dove sono andato abbastanza bene però su un giro a tappe è un po' diverso, comunque daremo il massimo. Per tutti oggi la migliore tattica è attaccare alla partenza all'inizio dell'etapa o al finale? Secondo me il percorso è adatto a delle fughe e quindi secondo me arriverà sicuramente la fuga.